Benvenuti a tutti in un nuovo video di Skyrim e oggi stiamo qua con il nostro simpatico orco furtivo, non è vero, non è furtivo per nulla e c'è una... ho aggiunto un qualche mod stramba, del tipo anche quella di Wolf e vabbè, tralasciamo la testa di Creeper qua tralasciando che le armi si vedano tipo piccolissime, vabbè però sono fatte abbastanza bene, tranne che così l'arma la tiene verso il basso, così la tiene verso l'alto ok, tutto apposta andiamo, assaliamo quel forte così a caso, non c'è un vero motivo è rilevato, eh vabbè aspettate, impostazioni, audio ce ne sono? no, non ce ne sono famo non farci la massa di là e cos'è la pesce? ah no, con la pesce è stata e stai dirigendo tu? mica io sono un orco io? va accanto a tutto si vai chi è? oh, cosa? andò sta? ah ma sei tu non capito dove venissero gli attacchi allora potenziamo in vigore così me lo possiamo trasportare sempre di più anche se ci aggiorano una buona quantità di cose trasportabili postura del campione lascia, procura una danne di sanguinamento danni critici ignora il 25% dell'armatura hm, sono quasi quasi indeciso ma si dai bam, morto ahio ebbene, mi devi capa dove sta? e vabbè, ma no non è possibile che tutti muoiono con un corpo su ah si? vediamo non era vero cattivo, non si dica né bugie ok sono appena diventato un puntaspilli cioè, troviamo qualche minerale qua vicino certamente vicino alle forze si trovano queste invece no hm mi ricordo che c'era qualche cesta qua vicino cioè, fin fine sono forte quello là vicino dove inizi la storia ho appena buttato giù il primo drago infatti devo ancora andare a Whitener però non ce lo voglio non è stato antipatico il tizio baldroof martello P cosa facci ma cosa facciamo? non è stato antipatico il tizio non è stato antipatico non è stato antipatico non è stato antipatico cadono come perecotte spadone in acciaio bellissimo st'arma aia questo ha fatto male tra la seconda che ha colpito oltre il suo corpo però va bene comunque cosa è sta cosa? dovrebbe essere una campanella niente non so ho provato a suonare ma non so allora 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 qua ci sono un paio di guerrieri l'altro sta dormendo oi ok a posto ho consumato mettete mi sta per bloccare un'altra oltre l'attacco sto per crepare allora oggetti e pozioni stai a fermo là stai a fermo là lo chiamavano testugine arco imperiale le frecce infiltrate nel vuoto che racconto ben volentieri non posso prendermi la forchetta allora prendiamo sta spada grazie grazie vediamo se riesco a forzare il tutto stai trasportando troppo peso cacchio che sono un macello sti martelli aperto schifo schifo ho preso qualcosa che non dovevo prendere sti mali di pelle lo scheletro non mi interessa allora di quale uscione si sale ok armatura leggera l'imperiale è morto cascetto ora e ci buttiamo dentro un po' di cose inutili tipo 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 un po' di cose inutili un po' di cose inutili giro 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 la versione argonia no 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 3, 2, 1 Eccolo qua Andaggia a questo Ah si Ah che ho preso? Amoro Ah grazie Scusi mi sono dimenticato Dimenticato tra i perfetti l'arma Morto Prenderai tutto volentieri Però non c'ho spazio Mi dispiace Però questo me lo prendo Volentieri Ce ne sono qua sotto? Guardi Allora c'è Grande di oro No no Volevo caricare un altro po' Ma prima La cosa? La magia Allora Baure Pugnale a pesca Semmi sarei fatto assassino ci stava Armadetto d'amore Vediamo Salta Managgia Eh sto troppo volento Allora L'acqua lungo Non me lo faccio una mazza E' pugnale Forse forse Del tipo La build Do fare così Aspetta come c'era? Era questo? Eh? Illusione? No Non era illusione Era Vabbè non mi ricordo Adesso C'era una build Da fare Sul Sul tipo assassino Che devo fare Che si attaccava Una vicenda tipo Apri Skyrim Ma non è già aperto Questo Quello di Pristezza Che bello sto coso Allora mappa E via re c'è ancora C'è anche il to whom Ovvero l'urlo Eh vabbè Ah è vero Ci ho messo anche i fucili Così così Questa qua Vabbè La mia armatura Leggera Poi vabbè Armi a caso Armageddon di wolf La best La vorrei fare Questa non so Che arma era Questo è lo scudone Bulwar of Azinoth Che hanno tipo Mille mila persone Corrupted Ashbringer Ma non c'è Ashbringer Va bene Destiny Spara pure C'è anche l'arma di Gromosh Hailstorm Hailstorm Questa non so da dove Compaiono queste armi Questa la so vabbè Shadowriver Le armi tipo da samurai Non le voglio però io Io direi che Grafiterai E non il bulwar of Azinoth Ma l'altro Perché Questo Mh Brutto Questo è già più bello Che cacchia Agli all'orecchia Perché non me l'hai copacciato Ah ok Mi copre tipo metà visuale Solo questo Se non fosse per i dettagli Di luce Ci starebbe Fanno un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Vai vado a pugni Tutto apposta Piuttosto faccio così Che bello come le tiene Allora Vediamo cosa posso fare Figure No A 50 posso aumentare Ok Postura del campione Quanto mi manca Per armatura pesante Devo aumentare Un'armatura pesante Non so da che Di devo andare Però Ah boh dai Per questo video Diciamo che è tutto Vi voglio farvi Vedere giusto Quell'assalto E qualche mod Che ho aggiunto Però Vabbè Diciamo che per questo video È tutto Quindi alla prossima Ciao 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 Grazie.